Una giornata della memoria per non dimenticare mai, una giornata per non lasciare inascoltato il grido di dolore di famiglie spezzate dalle morti sul lavoro. Una giornata che la città di Andria ha voluto celebrare questa mattina proprio in piazza caduti sul lavoro, dove il comitato 12 giugno ha già voluto fare erigere un monumento alle vittime del lavoro e del dovere. Fare esercizio di memoria è sempre una cosa utile al quotidiano e alla storia, quindi non possiamo esimerci dal fare questo. Però è chiaro che è una memoria che fa molto male, perché più passa il tempo e più invece che annunciare miglioramenti dal punto di vista delle condizioni di sicurezza sul lavoro, registriamo ancora tanti decessi. È cronaca di questi giorni, purtroppo ancora altre vittime e quindi questa cosa colpisce in maniera particolare le istituzioni, perché è inutile nasconderlo. Sono le istituzioni in primo luogo chiamate a trovare dei percorsi virtuosi per la risoluzione o quantomeno per arginare al massimo il fenomeno. Probabilmente i percorsi intrapresi finora non hanno prodotto i risultati sperati perché non sono andati nella direzione giusta, quindi deve essere un monito ricordare affinché davvero si riesca a contenere il più possibile un fenomeno del genere. Una celebrazione solenne, come si conviene a un evento del genere, con in prima linea il sindaco Giovanna Bruno, ma anche il vice prefetto vicario, il dottor Sergio Mazzia, oltre al vicario della diocesi, don Gianni Massaro, e il console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, la dottoressa Lusito. I maestri del lavoro sono coloro in particolare che si siano particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale, e vengono decorati con la stella al merito del lavoro conferita con decreto del Presidente della Repubblica e che comporta il titolo di maestro del lavoro. Mentre particolarmente emozionante è stato anche il contributo del comitato 12 giugno, lo ricordiamo, nato a Taranto nel 2003, proprio nella giornata che ricorda una data tragica per la città ionica, visto che si registrò un incidente gravissimo all'interno dell'ex Silva in cui persero la vita due operai. Stesso giorno, ma di anno diverso, per una tragica fatalità, e cioè il 2015, altro incidente nella fabbrica Tarantina in cui perse la vita un operaio 35enne. Il problema tuttavia resta ben vivo e dal comitato 12 giugno chiedono interventi chiari e realmente utili per le vittime sul lavoro. Questo deve servire per dare un segnale molto forte che ora, dalle belle parole, si passano ai fatti, perché quello che io chiedo allo Stato è che i processi siano giusti e rapidi in modo che le persone non muoiono due volte, la prima per il profitto e la seconda per la prescrizione. Che lo Stato faccia un fondo vittime per le morti sul lavoro, perché alcune ditte dichiarano fallimento e i familiari non prendono una lira, che quando succedono queste tragedie lo Stato dia un posto di lavoro a uno della famiglia di primo grado in modo che ha un sostenimento, in modo che la famiglia non si sgretra, che a sentenza di primo grado vengono dati già ai quattro quinti, ai familiari, senza aspettare la cassazione.